Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare, un chilometro di code attratti per lavori e verso Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa. Verso Firenze troviamo code attratti per traffico tra Pistoia e Il Vivo con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. I FIPD restano code attratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Possibili disagi inoltre per presenza di personale su strada in uscita a Ginestra per chi proviene da Livorno. Tra il traffico urbano di Firenze possibili disagi per probabile presenza di materiale incarreggiata segnalata in via dei Bruni. Informiamo inoltre che dal 24 aprile non scatterà il blocco della circolazione per i veicoli diesel Euro 5. Il Comune di Firenze e la Regione sono giunti a un protocollo che predispone alcuni divieti limitati al tratto dei viali tra Piazza Beccaria e Piazza della Libertà che saranno introdotti in modo progressivo ed eventuale a partire dal 1 giugno. Moversi in Toscana Info ha servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!